apriamo ufficialmente la settimana legata ai momenti della settimana santa con una iniziativa anche comunale voluta dal consigliere delegato alla cultura marco rago con la compagnia arcoscenico che presentano un tradizionale spettacolo che da un po di anni portano avanti un po nel panorama nazionale che è processo a gesù lo spettacolo si terrà nella giornata della domenica delle palme il 25 marzo alle ore 19 e 30 nella chiesa di san clemente a pellezzano capoluogo ringrazio anche il parco don luigi savino per aver voluto ospitare questo evento ma soprattutto è un evento che apre una settimana importante che è legata a quelli che sono un po tutti i riti della settimana santa processo gesù che vuole essere iniziativa culturale ma anche di aggregazione sociale ma soprattutto per chi ha fede un ritorno anche a delle riflessioni spirituali nel momento in cui ci troviamo ad attraversare grande attesa sì perché sulla scia delle culture della tradizione anche religiosa qui a pellezzano con l'amministrazione morra nell'ambito delle politiche culturali abbiamo inteso patrocinare lo spettacolo teatrale processo gesù che viene proposto dalla compagnia arcoscenico di salerno della quale alcuni attori fanno parte del nostro territorio qui di pellezzano allora questo qua è un spettacolo che io personalmente pratico diciamo frequento da oramai quasi 40 anni è quasi stato il mio spettacolo di ingresso nel mondo del teatro la prima volta che lo feci avevo 19 anni sono passato un bel po di anni da allora abbiamo sempre presentato cosa significa lo devono scoprire le persone che verranno poi a teatro credo che abbia già spiegato no fa piacere partecipare a uno spettacolo da alcuni anni poi nella parte dell'antipatico perché sono il pubblico accusatore di tutta la storia e mi fa anche più ancora più piacere fare uno spettacolo a pellezzano io abito da da 22 anni nel territorio di pellezzano e sono state poche occasioni grazie a tutti